Signori miei è tempo di riprova ed eccoci qua di nuovo con S24 Ultra che ha ricevuto finalmente quel tanto agognato sperato aggiornamento che pesa più o meno sui 400 mega che va ad aggiustare alcuni bug a quanto dice Samsung perfeziona le prestazioni porta anche poi le patch di marzo insomma questo è il changelog e poi si sono aggiornate alcune applicazioni all'interno del Galaxy Store ok anche all'interno del Play Store chiaramente però basta ho detto ma tutto qua è cambiato solo questo e basta no sembra proprio che Samsung ci abbia celato come dire delle novità molto importanti in realtà che riguardano la fotocamera che era forse l'aspetto su cui io nella sua recensione avevo indicato di andare a mettere più mano per renderlo davvero un device perfetto praticamente sensori posteriori e anche frontali che insomma in alcuni momenti non sempre potevano rappresentare l'anello più debole della catena al di là di questo io comunque già in quel video lì vi dissi ragazzi state tranquilli che comunque è un device che assolutamente ha senso di essere acquistato se avete un S23 Ultra lasciate stare sicuramente insomma perché sono molto simili in realtà per alcune cose ma se il vostro primo device assolutamente prendetelo vi lascio il link in descrizione su Amazon e vi ringrazio se lo comprerete da lì perché mi supportate senza spendere un centesimo di più grazie dunque problema del display no? La vivacità mancata per questo pannello sicuramente se lo vado magari ad appagliare un S23 Ultra una qualche differenza cromatica la si può leggermente notare ma sinceramente non me ne sono fatto un cruccio però adesso ha aggiunto l'opzione Samsung per andare a modificare la vivacità di fatto tuttavia io continuo a mantenere attiva la modalità vivida con la tonalità colore adattiva quindi che va in base all'ambiente in alternativa vi consiglio sempre vivida ma con un tocco di tonalità un po' più calda giusto per evitare insomma eccessiva luce blu sensibilità della gesture per il cambio applicazioni eccola qua che non fun... perché non va mai? ah perché non ho nessuna app aperta scusate eccola qua vedete che ogni tanto non la prende non è cambiato assolutamente nulla da questo punto di vista ho provato dei trick come aumentare la sensibilità dello schermo in generale con la modalità guanto non è cambiato nulla ho installato goodlock con il modulo home app e attivando nel task changer il settaggio bottom gesture sensitivity al 100% ho provato e non cambia nulla nemmeno il modulo navstar che ha tantissime impostazioni appunto per il gesture, gli swipe, la navigazione sembra avere un settaggio che possa migliorare questa cosa ecco e parlando di migliori e prestazioni com'è? beh lui è sempre stato una bomba non ho avuto mai nulla da rimproverargli ho rifatto tutti i benchmark per scrupolo e cosa ho scoperto che tutti in generale sono un po' calati però in realtà ci sta perché le temperature adesso sono anche un po' più elevate rispetto a quando ho fatto i test con lui a febbraio è una cosa fisiologica quindi state tranquilli lui non ha nulla che non va assolutamente però certamente mi sono posto la domanda ma non è che queste app di benchmark che fanno qualche punteggio in meno è per colpa del throttling allora ho misurato le temperature ragazzi non c'è nulla che non va è tutto a posto tutto nella norma a proposito guardate subito in descrizione perché parlando di app ho installato anche su s24 ultra cyber ghost che tra l'altro a prezzo scontato adesso lo trovate è un servizio di vpn che gestisce circa 38 milioni di utenti mica pochi e come tutte le vpn l'app mobile ha il comodo pulsantino per connettersi a un canale sicuro e cifrato in uno dei 90 paesi della lista così comunichiamo online nascondendo a chiunque ciò che facciamo in rete e possiamo simulare la nostra presenza in uno dei paesi della lista volendo e nemmeno cyber ghost sa che cosa facciamo perché adotta la politica no log e come vi ho detto già negli ultimi video anche attivate la vpn quando non siete a casa siete connessi magari a un wifi pubblico di un aeroporto o di un hotel così nessuno intercetta cronologia password file inviati carte di credito al contempo avrete accesso ai cataloghi netflix prime video disney plus anche di altri paesi e se siete fuori italia potete comunque guardarvi rai play d max canale 5 questo fino a 7 device simultaneamente e su pressoché qualsiasi piattaforma provatelo link in descrizione con più dell'80 per cento di sconto 4 mesi extra gratuiti e 45 giorni soddisfatti rimborsati nel caso doveste ripensarci per qualsiasi motivo detto ciò parliamo di intelligenza artificiale quindi tiro fuori subito la s pen perché ho provato a ritoccare delle foto che avevo già ritoccato in passato per vedere se magari l'algoritmo il funzionamento fosse un po' migliorato ragazzi devo dire di sì prendiamo per esempio questa foto innanzitutto questo è il risultato che vi avevo fatto vedere nella video recensione di s24 ultra chiaramente vi invito a recuperarla guardate un po' qua lo zaino c'è stato questo rimasuglio ho spostato me stesso il mio soggetto guardate come si è mangiato un po' della mia faccia insomma qua c'è una carenza di definizione ho tolto poi qui c'erano dei fili che pendevano ho tolto anche parte di un vaso che era qui e il condizionatore l'unità esterna che era qua ok questa cosa si è trasformata in questa cosa qua innanzitutto lo zaino vedete che comunque l'ha risolto molto meglio guardate anche l'angolo guardate la texture del pavimento ok se vado a riprendere la foto di prima vedete che è decisamente più imprecisa e ancora questo è dove c'era il condizionatore qua è dove c'era il vaso in effetti poteva fare un po' meglio in quel frangente lì e chiaramente la perdita di definizione qua vedete al lato anche un po' in questa zona qui rimane tendenzialmente non è un qualcosa che è migliorato ok questo lo vedremo anche in qualche altro scatto che adesso vi mostro però io una cosa così prima non sarei riuscito a farla scatto di partenza che vi ho fatto vedere nella sua review scatto che ne è risultato della mia modifica vedete che ci sono degli elementi discutibili come per esempio questa roba qua che ha messo al posto delle persone io non ho capito il perché questi io non sono riuscito a rimuovere i ragazzi io li ho lasciati lì in un primo momento guardate che cosa ha combinato è totalmente un'altra foto ha fatto un grandissimo lavoro non ha aggiunto nessun oggetto soggetto strano ho rimosso tutto in modo molto più accurato vi faccio vedere anche quest'altro scatto il prima la modifica per la recensione e la modifica che ho fatto io di recente al di là del fatto che si ha aggiunto questo buco questa piccola voragine questo masso non so cosa sia perché ho fatto una selezione aggiuntiva di quella zona per vedere che cosa tirasse fuori quindi in realtà c'era neve prima quindi è corretto ma guardate il mio soggetto allora come vi dicevo vedete qua che comunque lo scontorno non è precisissimo sfoca un po' tanto a mio parere e c'è da dire che per esempio elementi molto piccoli come vedete per esempio questo stecchino non sono riuscito a selezionarlo ok quindi diciamo questo impedimento persiste una cosa che per esempio Pixel non ha seleziona tutto invece Samsung è molto selettivo è migliorato sotto questo aspetto ma non ancora del tutto però guardate gli sci guardateli guardate la coda dello sci e anche la punta anzi le punte le ha mantenute se io vado a prendere lo scatto dell'altro video guardate si è mangiato via tutto questa parte di coda dello sci io non riuscivo a selezionarla in alcun modo lo scontorno inteso come qualità e la selezione di soggetti o oggetti molto piccoli è ancora un qualcosa che secondo me va affinato però è migliorato è migliorato ma parliamo di loro un po' secondino arriviamo finalmente a vedere questo changelog espanso che cosa vuol dire nel concreto andiamo sul computer vi faccio vedere guardate che bei selfie S23 e S24 perché vi li faccio vedere perché ragazzi finalmente la sovraesposizione eccessiva sia nei selfie che anche nelle foto normali è sparita non c'è più guardate come sono ben bilanciati sì allora S24 tende ad essere un po' più luminoso quindi magari a esporre un filo di più però in realtà è tutto piuttosto corretto sì al massimo questa nuvola qua prendendo il videoscope andando a isolare solo la foto dell'S24 vedete che il blu arriva al 100 è correttissima è un po' slavatina infatti lo si vede che qua sotto diciamo che non è molto contrastata ma in realtà è perfetta anche questo scatto che era ben più difficile comunque l'ha risolto bene guardate invece questo scatto dove c'è anche iPhone sì S24 Ultra è quello che sovrespone di più guardate il sole qua dietro e guardate invece iPhone come lo risolve decisamente meglio ma pre-aggiornamento avrebbe creato delle cose davvero mostruose questo invece è uno scatto posteriore ma è un'ulteriore prova di quello che dico l'ha risolto perfettamente guardate pure questo niente da dire anzi in realtà rispetto ad iPhone entrambi i Galaxy fanno molto meglio nel recuperare questa zona qua e ne approfitto per parlarvi del problema taratura colore selfie questa non è cambiata in alcun modo S24 è quello che la rende più giallogno la idea è una sua caratteristica anche i miei capelli più rossicci per carità tanti mi dicono che sono rosso non è vero sono castano chiaro ma comunque se ci fosse una taratura mix tra iPhone e S23 Ultra avrebbe fuori una cosa perfetta venendo un secondo al problema texture permane una sorta di differenza no se io vado a zoomare e zoom sul mio S23 Ultra eccolo qua andando all'S24 guardate praticamente le lineette al centro non ci sono più sono praticamente completamente sparite quello era il super wide questo invece è il sensore 1x S23 Ultra S24 cioè salta subito all'occhio questa differenza ok diciamo che ha un po' di difficoltà nel mantenere una certa nitidezza lato texture laddove magari la foto oggettivamente si vede bene qualche dettaglio magari manca un filo giusto un appunto quello che vi ho detto lato foto vale praticamente quasi in tutto e per tutto anche lato video guardate l'esposizione come è buona su entrambi i device ecco S24 Ultra vedete vedete che sfarfalla un po' di più nell'esposizione vedete vedete che è un po' più incerto veniamo agli scatti al buio tutti e tre contendenti andiamo su S24 Ultra sebbene possa sembrare più nitida più risoluta guardate la texture praticamente è sparito tutto perché se io vado su S23 vedete come l'erba comunque venga fuori molto meglio ecco questo è un problema che torna il problema delle texture anche al buio in alcuni casi però è sempre un se e un ma come vi ho detto anche nella review e adesso il pezzo forte questo è il 5x di S24 Ultra guardate bene la definizione che continua ad essere nettamente maggiore di questo 10x di S23 Ultra al buio questi tele anche il 3x più che altro il 5x dell'S24 continua a fare un ottimo lavoro problema rumore video allora è stato ulteriormente arginato guardate come praticamente non ce ne sia questo forse un po' discapito della risoluzione che forse non è esattamente come me l'aspetterei ok da un video fatto su S24 Ultra ma poi vedete che quando vado al 3x il problema delle ombre blu permane io non ho proprio capito il motivo guardate che staratura completa e quando vado al 5x è ancora peggio questo non l'hanno risolto in alcun modo ma io non ho neanche mai capito da dove venga questo problema e perché non riescano evidentemente a risolverlo mi sento di dire è migliorato decisamente adesso è usabile a tutti gli effetti potrebbe spingere un secondino di più sui video al buio per quanto riguarda la nitidezza dovrebbe tarare un po' meglio i selfie lato colore ancora e per il resto ci siamo è un camera fatto e finito detto ciò spero che il video vi sia piaciuto lasciate like iscrivetevi attenzione con la campana attiva vi invito a recuperare la recensione ditemi se siete soddisfatti di questo update se chi ha S24 Ultra insomma l'ha ricevuto è tutto a posto o ha riscontrato altri bug altre cose sinceramente continuo ad apprezzare molto questo device che insomma ce lo aspettavamo però abbiamo avuto la conferma Samsung li migliora un po' col tempo ci ha messo un po' tanto ad arrivare questo aggiornamento però vabbè l'importante è che adesso finalmente l'abbiamo ci vediamo in una prossima produzione ciao